E' battaglia legale fra il Ministero dei Trasporti e la Società di Navigazione Messina. Al centro del contendere ci sono i denari sborsati dal Ministero a titolo di risarcimento ai parenti delle vittime del crollo delle torri dei piloti del porto di Genova. La tragedia avvenne il 7 maggio del 2013, quando una nave della Messina urtò la torre, provocando il crollo e causando 9 morti e 4 feriti. Ora il Ministero dei Trasporti ha chiesto alla Società Messina di rimborsare il denaro impiegato per l'indenizia alle vittime, ma i legali della Società si sono opposti, sostenendo che la richiesta sia illegittima. Secondo i legali, infatti, lo Stato non avrebbe diritto di rivalsa nei confronti della Società.